Quanto della nostra ricchezza destiniamo oggi alla cooperazione internazionale? Questo? Questo? Oppure questo? Investire di più in cooperazione significa creare una società più giusta, superare le disuguaglianze e contrastare i cambiamenti climatici. Destiniamo lo 0,70% della nostra ricchezza nazionale all'aiuto pubblico allo sviluppo. Per fare molto, ovunque, per tutti. Costruiamo un destino di pace.